Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd! Secondo episodio uscito di House of the Dragon e secondo video dedicato alla serie, sì, una serie che mi sta facendo sognare! Non sto esagerando, non sto scherzando, mi piace tantissimo, mi piace veramente un sacco questo spin-off prequel di Game of Thrones e parliamo del secondo episodio, meglio chiaramente con spoiler, in questa recensione, analisi più spiegazione magari di certi nomi, di certe persone, di certi luoghi ma senza spoiler su ciò che accadrà nei futuri otto episodi che andranno a comporre questa prima stagione di House of the Dragon quindi non vi preoccupate, stiamo tutti scuri, stiamo tutti safe, stiamo tutti yeah e whatta! Ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare, è vero e iscrivetevi al canale YouTube di Cosmopolinerd, piccando il sassino iscriviti e attivando la campanella delle notifiche anche su cellulare che è sempre una cosa importantissima e se volete supportarmi oltre che sopportarmi trovate un sacco di modi meravigliosi in descrizione a questo video come la fantastica piattaforma Ko-fi, la mia wishlist Amazon, se volete farmi un regalo andate a vedere che cosa vi garantisce il mio codice personale COSMO su Pampling, sito di magliette articoli nerd, non ne resterete delusi, oh no! Bene, ciancio alle bande e sigla! Senza cincischiare oltre, com'è questo secondo episodio della prima stagione di House of the Dragon tra l'altro serie che è già stata rinnovata per una seconda stagione e io sono felicissima sono molto contenta dei risultati ottenuti da un punto di vista di share, possiamo dire così, dal primo episodio e spero che questa serie continui figa come il primo episodio sia da un punto di vista di qualità che da un punto di vista di ascolti fino alla fine perché secondo me se lo merita, sapete? un po' più corto rispetto al primo episodio, diciamo che il pilot, l'episodio pilota, il primo episodio di questa serie è stato talmente giusto, corretto, efficace, forte, emotivo e aggiungete qualunque altro aggettivo positivo vi viene in mente da vivere di rendita per i futuri episodi almeno fino a metà stagione ecco perché con un episodio pilota, con un inizio così strabordante di tutto, così meraviglioso, così ben realizzato così ottimo, esattamente come un episodio pilota deve essere il secondo episodio ha potuto permettersi di rallentare un po' il ritmo concentrarsi di più sull'approfondimento dei personaggi, delle relazioni tra di loro dei giochi di potere che cominciano a interfacciarsi all'interno di questa serie e tuttavia grazie alla spinta emotiva fortissima data dal primo episodio questo secondo episodio riesce a raccogliere l'eredità emotiva del pilot e a costruirci sopra tanto tanto altro perché per dire la relazione che c'è tra re Viserys I e la figlia Rhaenyra è molto bella ma è molto bella all'interno di questo episodio grazie a ciò che abbiamo visto nel primo episodio insomma sembra proprio che HBO ovvero il canale produttore diciamo così di tale serie e di tante serie molto molto fighe che abbiamo visto all'interno della nostra vita di appassionati seriali sta dando proprio il massimo di sé sta cercando di riscattarsi dall'insuccesso qualitativo che è stata l'ultima stagione di Game of Thrones e sta facendo capire che c'è tanta intenzione di proseguire con il franchise del Trono di Spade e di proseguire bene, di proseguire al massimo della qualità possibile e immaginabile insomma mi sembra proprio che questi due episodi siano una sorta di dichiarazione noi cercheremo di fare le cose al massimo delle nostre possibilità e le loro possibilità sono decisamente tante come abbiamo visto in questi primi due episodi e spero anche nel futuro della serie vedremo altrettanto quindi HBO, canale produttore e dove va in America la serie, dove la si può vedere Sky da noi in Italia che mi ero dimenticata di fare questa precisazione nel primo video comunque io ve lo dico qua così almeno nel caso in cui non lo sapeste sapete dove potete guardarla in Italia sono trascorsi circa sei mesi dal primo episodio c'è chi dice più, c'è chi dice meno, fatto sta, sei mesi così andiamo d'accordo tutti quanti e Re Viserys I non si è ancora ripreso comprensibilmente dalla morte della moglie tuttavia ci sono pressioni un po' ovunque perché si risposi e ho trovato molto interessante di nuovo il personaggio di Re Viserys che continua ad essere brutalmente ferito dal trono di spade ha anche un dito che si sta incancrenendo insomma veramente un uomo che viene divorato dalle sue responsabilità dal suo essere re senza forse essere adatto anzi quasi sicuramente a regnare sul trono di spade perché è un uomo troppo buono e un uomo troppo comprensivo un uomo troppo umano quindi troppo uomo per riuscire a ricoprire una carica del genere non è debole perché trovo che il suo essere molto umano non sia un tratto di debolezza ma lo è probabilmente se devi poggiare le tue regali terga sul trono di spade e il trono glielo sta facendo capire in ogni modo possibile immaginabile mi piace anche come non riesca a relazionarsi con la figlia come anche la figlia faccia fatica a relazionarsi con lui perché manca una figura materna all'interno del loro rapporto una figura femminile adulta che riesca anche a creare il giusto equilibrio tra di loro e si inserisce tra loro in maniera totalmente positiva e costruttiva almeno finora la figura di Alicent che fa un po' da consigliera appoggio emotivo per Re Viserys e da amica fraterna sorella maggiore per Rhaenyra infatti è bello vedere come verso la fine dell'episodio i due si confrontino padre e figlia si confrontino anche riguardo l'obbligo che ha il re di risposarsi e che Rhaenyra sia d'accordo perché capisce le necessità del padre capisce le necessità dell'essere re perché per quanto abbia 15 anni nella serie è molto più responsabile e molto più adulta rispetto alla sua età ed è molto toccante vederli assieme aprire i loro cuoricini in un l'altro verso un finale poi di questo episodio veramente che lascia Rhaenyra in lacrime distrutta poverina veramente veramente poverina quindi è bello vedere come il personaggio di Alicent si stia inserendo sempre di più all'interno degli equilibri relazionali tra il re e la figlia l'erede no e insomma trovo che sia molto interessante il personaggio di Alicent molto stratificato l'attrice rende molto bene le sfumature di lei e quindi sì mi ritengo estremamente soddisfatta e considerate come vi avevo detto nell'analisi dell'episodio precedente all'inizio mi sembrava un po' sciapina ma effettivamente le è stato insegnato a essere quello che deve essere a seconda delle situazioni a seconda delle circostanze e lei è molto brava in tutto ciò vediamo se la cosa prima o poi le sfuggirà di mano ecco comunque è bello bello Reviserys, Alicent mi piacciono un sacco Rhaenyra sta cominciando a uscire dal prototipo di ragazza forte che vuole andare oltre gli obblighi che la società impone a lei in quanto donna vuole essere di più, vuole essere se stessa a prescindere da tutto mi piace perché è intelligente non è che va dritta come un treno verso i propri obiettivi sbattendosene di tutto quanto quindi va decisamente oltre il prototipo di ragazza forte perché è una ragazza forte ma molto sensibile non ha problemi a piangere cioè è bello, mi piace molto anche come stanno dipingendo lei mi piace come ovviamente il personaggio di Damon interpretato da Matt Smith io amo l'attore da sempre, da anni e anni e anni e mi piace tantissimo tutte le nuance che sta dando al personaggio perché lui è buffo, divertente ma molto 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 inquietante perché comunque è un personaggio molto 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 pericoloso e quando anche Matt Smith dà quell'aria così angelica quasi serafica al personaggio è proprio quello il momento in cui lo devi temere di più lui ha una sorta di respect nei confronti di Rhaenyra perché comunque lei è super cazzuta quindi lui la rispetta effettivamente anche se lei la causa di tutto la sua sofferenza di tutta la sofferenza del personaggio di Damon di non essere riuscito a diventare erede di suo fratello e infatti è anche molto bello il loro confronto lei che va a muso duro contro di lui proprio, cioè, mi è piaciuta un sacco lì lei cioè, sono io la causa di tutta la tua disperazione, ok? ce l'hai con me? ok, uccidimi toglimi di mezzo così risolviamo sta cosa e non andiamo più avanti in queste manfrine a bambini di due anni, no? e lui non fa niente ovviamente non l'avrebbe uccisa non avrebbe avuto senso poi anche con quello che succederà ok, però anche come stanno adesso i personaggi tra di loro e quindi è anche bello il loro rapporto anche il rispetto che lui ha pur dimostrandolo, insomma, fatica nei confronti del fratello maggiore ovvero di Reviseris perché quando Corlys e Damon alla fine si accordano per sferrare un attacco contro i pirati stanziati alle Stepsons a queste, diciamo, isole che di base sono poverissime e non conterebbero una mazza se non fossero posizionate strategicamente tra Westeros e Essos tra i due continenti ecco, e tutte le navi passassero lì vicino e quindi anche in quel momento lì in cui si stanno chiaramente alleando contro il volere del Re Damon non vuole che Corlys Velaryon si permetta di definire in certi modi il re cioè io posso farlo perché io sono suo fratello ma tu ciccio non puoi assolutamente perciò toglitelo dalla testa ecco, oggi sono molto io io ciccio io 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 non so come mai abbiate pazienza ogni tanto capita quindi molto figo tutto è tutto molto figo anche come stanno pian piano ma neanche troppo piano stanno costruendo gli intrighi di corte e c'è anche una battaglia una guerra uno scontro all'orizzonte e insomma stanno costruendo tutto benissimo che che vi devo dire cioè è tutto molto figo inoltre mi piace tantissimo il sapiente utilizzo delle metafore nella scrittura di questa serie abbiamo cominciato nel primo episodio vedendo il trono di spade che è davvero fatto di spade per chi non è degno per chi non è adatto per i regnanti che non sono all'altezza quindi non è uno scranno un trono appunto bensì un'arma su cui il re inadatto si siede e viene ferito no appunto il re Viserys ma mi è piaciuto anche tantissimo l'utilizzo di un'altra metafora all'interno di questo secondo episodio abbiamo visto il drago che è stato cesellato da Re Viserys che mentre era lì che chiacchierava se così possiamo dire con Alicent cade il drago cade si rompe un'ala Alicent lo prende con sé e lo porta via e nel momento di più estremo bisogno perché appunto Re Viserys è indeciso se risposarsi e soprattutto su quale gentile donzella dovrebbe avere l'onore di diventare la nuova regina ecco proprio in quel momento lì arriva Alicent che dà a Re Viserys il drago fatto aggiustare proprio da lei quindi Alicent come colei che aggiusta il drago come colei che aggiusta qualcosa che sta a cuore al Re e quindi automaticamente in grado di aggiustare di prendersi estrema cura di un Re di un uomo che si sente rotto dentro quindi colei che può rimettere insieme i cocci che compongono l'interiorità l'umanità di Re Viserys per quello che sceglie lei perché pensa che possa dargli sollievo per la morte della moglie amata perché amerà sempre di più la prima moglie rispetto alla seconda come ha detto lui stesso a sua figlia Rhaenyra quindi vedete che sapiente utilizzo delle metafore è meraviglioso tutto ciò e sicuramente ce ne saranno delle altre che si noteranno magari a una seconda visione ma questa è talmente forte talmente importante e talmente decisiva nella costruzione del rapporto tra Re Viserys e Alicent che proprio mi ha colpito in pieno viso e mi ha fatto dire ma che figata trovo tra l'altro molto interessante il fatto che abbiano preso determinate decisioni per far discostare il libro gli scritti di Martin dalla serie a cominciare dall'età di Rhaenyra qua viene detto chiaramente che ha 15 anni invece mi pare che all'interno dei libri lei non abbia neanche 10 anni quando avvengono gli avvenimenti perché sapete gli avvenimenti avvengono che vengono raccontati in questi primi due episodi di House of the Dragon della prima stagione di House of the Dragon sì mi pare abbia 8 anni ecco e c'è una grande differenza d'età tra lei e Alicent che ha 9 anni di più sempre se non sbaglio invece qua Alicent mi sembra tipo un 2 anni più piccola perché quando poi insomma convolerà a nozze con Reviseris Primo avrà 18 anni qua invece secondo me potrebbe avere tipo 16 anni un anno tra le due in modo da permetterle di porsi come una sorella maggiore nei confronti di Rhaenyra ci sta insomma un secondo episodio super interessante e adesso diamo magari qualche spiegazione perché vengono fatti un sacco di riferimenti geografici viene nominato anche questo crab feeder questo capo dei pirati ecco cerchiamo di capire un po' senza fare spoiler riguardo ciò che accadrà nei futuri 8 episodi della prima stagione di House of the Dragon cos'è tutta sta roba quindi niente spoiler non vi preoccupate allora praticamente come vi dicevo queste stepstones sono delle isole super cioè montagnose cioè non ci puoi neanche costruire un castello sopra quindi non interessano a nessuno sostanzialmente però appunto sono strategicamente posizionate perché tutte le rotte commerciali passano lì vicino ed ecco che i pirati comandati da questo crab feeder in pratica si sono stanziati lì per saccheggiarle allora nei libri è sì un proveniente dall'isola di Myr questo crab feeder però non è un pirata nel senso nei libri ha scacciato i pirati dalle stepstones e si è stanziato lui per chiedere una sorta di dazio a ogni nave quindi è molto interessante il fatto che lui sia un pirata perché viene definito tale questo crab feeder e Corliss e il nostro amico Daemon sono pronti a dichiarargli battaglia tu non puoi fare quello che per dinci baccolina vuoi su questa rotta commerciale hai capito e le stepstones nel futuro della serie diventeranno molto importanti per qualcuno ecco anche diciamo la sede in cui risiederà perché appunto si risiede in una sede sapete un personaggio molto importante e sarà uno scontro super what a uno scontro che potrebbe andare a incasinare la situazione di equilibrio tra Westeros e Essos perché vengono nominate queste città libere queste free cities che sono nove e sono tutte posizionate nel continente di Essos e sono praticamente quelle città in cui è cresciuta in esilio Daenerys assieme al fratello loro si sono spostati tra una città libera e l'altra sempre chiaramente a Essos sono città più o meno potenti più o meno ricche ma comunque assieme insomma sti cazzi per Westeros inimicarsi le città libere sarebbe una mossa abbastanza suicida mi verrebbe da dire a parte da un punto di vista commerciale perché Westeros beneficia grandemente del commercio con Essos e poi insomma ci sono determinate organizzazioni determinate istituzioni in queste città libere che inimicarsele sarebbe molto molto male allora l'abbiamo viste più volte le città libere le free cities in game of thrones la serie principale pensiamo soltanto che la più grossa la più importante è Braavos Braavos dove Arya Stark va ad addestrarsi per diventare una faceless man una faceless killer insomma una un'assassina senza volto tutto il discorso del Valar Morghulis Valar da Eris insomma viene tutto da Braavos ed è molto importante Braavos perché c'è anche la Iron Bank cioè c'è la banca vi ricordate all'interno di Game of Thrones quante volte si parla di questa Iron Bank quanti prestiti si chiedono e proprio il re dei sette regni colui che siede sul trono di spade è cliente della Iron Bank quindi non conviene a nessuno inimicarsi Braavos e le altre città libere vi pare poi un'altra tra queste città libere è Lys da cui proviene Varys e poi abbiamo anche Myr da cui proviene si dice questo Crab Feeder insomma ci sono sono nove queste Free Cities e non è il caso davvero di andare a rompere loro le scatole quindi chissà come reagiranno se e quando Corlys e Daemon veramente andranno alle Stepstones a fare il Kulasawa stelle strisce al caro Crab Feeder Crab Feeder capo dei Pirati che viene sovvenzionato dalle città libere insomma è tutto un casotto politico perché non solo da un punto di vista di equilibri con Corlys Velaryon che dice e Viserys caro sposa mia figlia di 12 anni e veramente lì Viserys cioè stava schiattando dentro pensare di dover sposare questa bambina perché è proprio una bambina e le avevano tra l'altro fatte imparare a memoria questo discorsetto cioè il papà Corlys le aveva fatto imparare questo discorsetto una bambina di 12 anni che dice a un uomo che quanti anni avrà un bel po' decine decisamente comunque più di lei ti saprò dare dei figli saprò che angoscia ragazzi che angoscia quindi insomma gli equilibri di potere all'interno di approdo del re e attorno al trono di spade sono più intrigati e intriganti che mai ma anche la situazione geografica degli equilibri socio-politici continentali e extra-continentali si sta facendo bella durettina quindi vedendo che cosa è stato apparecchiato finora dai primi due episodi della prima sozione di House of the Dragon rifacciamoci la domanda che ci siamo fatti alla fine dello scorso video questo show riuscirà a risollevare le sorti del franchise di Game of Thrones tutto oppure destinato a finire nel dimenticatoio considerando come stanno creando tutto una storia figa in modo figo con personaggi fighi con delle tempistiche fighe sempre interessanti secondo me è destinata al successo i numeri registrati finora e l'apprezzamento da parte del pubblico non dicono sicuramente il contrario mi auguro che tale qualità continui fino all'ultimo episodio di questa stagione e anche la prossima stagione ora l'ottava stagione di Game of Thrones e parzialmente anche la settima non si possono cancellare ahimè tuttavia secondo me possiamo tirare finalmente un sospirone di sollievo perché io sono rimasta tanto in ansia riguardo questa House of the Dragon perché speravo fosse figa speravo fosse figa e figa lo è e come fortunatamente dubito che faranno una cagatona come hanno fatto alla fine di Game of Thrones beh arrivarci all'ottava stagione di House of the Dragon ecco mantenendo questa qualità quindi dopo l'errore compiuto da HBO sono sicura che non lo ricommetteranno di nuovo adesso c'è Zio Martin l'autore a tenere più sotto controllo tutto quanto ed effettivamente il suo controllo creativo si sente ed è utilissimo perché se non lui chi può dare consigli può tenere un po' più verso la rotta al timone di questa splendida imbarcazione che è House of the Dragon quindi speriamo bene speriamo bene viva i draghi lo so bruttissimo da dire da parte mia viva i Targaryen viva Max Smith e viva anche Re Viserys al quale auguro tanta salute e prosperità ma ahimè non faccio spoiler se questo video vi è piaciuto come è piaciuto la luce che va e che viene oh yeah allora dovete fare sempre le solite cose ovvero mettere mi piace lasciare un commento iscrivervi al canale youtube di Cosmopolind attivando anche la campanella delle notifiche ovunque questa sia che è sempre una cosa importantissima altrimenti diventerò anch'io un drago in CGI wow wow